Si tratti di omicidio, gli inquirenti non hanno alcun dubbio, ma sul perché della morte di Francesco Vasile, pensionato a Grigioentino di 71 anni, ci sono ancora molti dubbi. Il suo assassino pare sia stato individuato e le ricerche per trovarlo ed arrestarlo sono in corso. Il cadavere semicarbonizzato è stato trovato da un turista durante un'escursione nei pressi della Valle dei Templi, sotto un cavalcavia delle ferrovie. Qui l'uomo sarebbe stato portato già senza vita e poi dato alle fiamme, massacrato forse a colpi di bastone, visto che sul corpo non ci sarebbero segni di arma da fuoco. Gli inquirenti pensano a una lite per soldi finita male. L'uomo era abbastanza conosciuto in città perché consegnava bombole di gas.